Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Nel fine settimana è in programma la giornata mondiale dei bambini con l'incontro tra Papa Francesco e 70.000 tra bambine e bambini. Sabato è previsto un primo evento allo Stadio Olimpico, domenica a San Pietro. Le chiusure al traffico previste e le modifiche bus sono su romamobilita.it. Da lunedì prossimo la linea di bus 309 sarà modificata, il nuovo capolinea sarà alla stazione Tiburtina e la tratta stazione Tiburtina, viale 21 aprile della 309 sarà disattivata. In quel tratto si possono comunque utilizzare le linee 62 e 168.